Cari ragazze e ragazze, sono qui per fare un video che potrebbe sembrare avere un titolo clickbait e invece non lo è, perché vedrete che si attira l'attenzione però il contenuto è assolutamente inerente al titolo Io non ho tanti follower, tanti seguaci, però in tanti, in tante più che altro, mi scrivete chiedendomi consiglio sulle tinte per capelli perché è stata sicuramente una delle cose più importanti sul mio canale cioè veramente tutt'ora mi scrivete per chiedermi consigli, mi commentate quei video perché mi rendo conto che non ci sono tantissime persone in italiano che parlano di tinte per capelli quindi io non posso rinegare una parte del mio youtube, infatti io non cancellerò quei video per carità perché comunque credo in quello che ho fatto, però dopo 8 anni che sono su youtube come creator se vogliamo così dire sento il bisogno di dirvi questa cosa qua, io ormai è da un anno che non faccio più tinte per capelli l'ultimo esperimento che avete visto è stato quello con il colorista e credo, credo che non le farò mai più questo perché dopo che ho visto mia mamma essere portata via in ambulanza e capire che poteva esserci un serio pericolo in quello che era successo ho ritenuto che vista la mia giovanità nonostante qualche cappello bianco forse fosse il caso di rivalutare completamente il mondo delle tinture per capelli che chiariamoci, alla maggior parte delle persone non fanno niente ma a qualcuno come a mia mamma e magari anche a me, non lo so, potrebbero dare qualche problema comincio subito con il dirvi che mia mamma ha sempre fatto tinte per capelli lei ha avuto il colore nero per anni e anni e anni e in realtà non ci sono mai stati particolari problemi né dal parrucchiere né qua a casa, quindi semplicemente li abbiamo fatte come le fanno tantissime persone probabilmente anche voi che mi state guardando succede però che tre anni fa circa le cominciano a dare un po' fastidio tutto è riniziato con qualche mal di testa, qualche nausea però non è che immediatamente puoi collegare che la tintura ti sta facendo quell'effetto per il semplice fatto che sono anni e anni che le usi, sempre le stesse marche peraltro e quindi non te ne rendi subito conto succede però anche che proprio per questo fastidio corriamo un attimo i ripari diciamo, ascolta, magari le tinture che usiamo sono troppo aggressive sono troppo, non lo so, hanno capito una formulazione, qualsiasi cosa proviamo a cercare una tinta, non dico naturale perché questo termine io non lo sopporto perché di naturale c'è la natura appunto ma poi la chimica è amica della natura, non è nemica quindi usare questo termine a sproposito non ha senso comunque qualcosa di meno sintetico che dia l'idea del più naturale ecco mettiamola così e al Natura sì abbiamo acquistato la tinta della Sanotint adesso io mi caccelò con la Sanotint per carità ma ci mancherebbe altro perché secondo me la reazione di mia mamma è stata semplicemente un escalation cioè è stata una casualità che cambiando tinta si sia avuta questa reazione allergica pazzesca fatto sta che l'hanno portata via in ambulanza non parlava, non rispondeva sembrava di risparmio comunque era gonfia, era rossa sembrava un grande prosciutto cotto lasciatemi passare questa terminologia poco carina anche tu mamma che mi stai seguendo però giusto che mettiamo in allarme le persone che magari hanno qualche leggero fastidio e che comunque ricorrono o vorrebbero ricorrere alle tinte per capelli perché capiamoci bene sono delle cose pericolose sì sono già comode sono comode perché sono già preparate basta semplicemente mischiarle però è roba chimica potentemente pericolosa per noi e per l'ambiente quindi se già io prima avevo detto stop alle tinte perché non voglio che tutto questo schifo perché alla fine insomma non sono belle cose finisca nel mare a maggior ragione dopo questa reazione pazzesca ho detto basta e quindi anch'io cercherò di ricorrere ovviamente ai vari mix DNA che possono eventualmente darmi un colore senza ricorrere alla chimica nel senso di prodotti preparati, assemblati chimicamente eccetera eccetera succede che come avrete visto nel video del colorista no, del L'Oreal Touch Up quindi quello per la ricrescita avete visto che mia mamma a un certo punto ha cominciato ad avere una ricrescita di 10 cm veramente tanti perché noi facevamo l'indigo una volta che è tornata all'ospedale ovviamente quello si poteva fare facciamo l'indigo e quindi cosa aveva? aveva questo effetto viola sulle radici nero alla fine le facevano tra l'altro anche i complimenti chiedendole come avesse fatto ad ottenerlo però capite bene che dopo qualche mese diventava un po' troppo cioè l'indigo e dopo questo nero corvino che comunque non andava via nel frattempo abbiamo appunto cominciato a sperimentare con le bombolette spray di ritocco del colore per dare un effetto più emogeneo e lei tuttora le utilizza senza nessun tipo di problema o allergia e a quel punto io mi sono detta ascolta qualcosa dobbiamo fare la parrucchiera quando al tempo aveva visto questa reazione non aveva detto granché le aveva sciacquato la testa e via e ho detto ascolta secondo me il problema visto che l'allergologa ti ha dato gli ingredienti ma da evitare ma abbiamo visto che tanto la sanotinta non aveva quell'ingrediente e comunque ti ha fatto quell'effetto assurdo visto che bla 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 io ho pensato, ho pensato, ho pensato e ho detto secondo me c'è qualcosa che non va nella colorazione nera perché se ci pensate è assurdo che tutti i colori in linea di massima sbiadiscono mia mamma ha le punte dei capelli nero corvino quindi ci deve essere qualcosa nel colorante utilizzato per formulare le tinte nere di altamente fissante, aggressivo non lo so fatto sta che ho detto ascolta facciamo così facciamo un tentativo prendiamo una con la quale io mi sono trovata bene e non ho mai avuto problemi che è il casting crème gloss di L'Oreal non lo prendiamo nero però lo prendiamo viola era il colore scusate ma c'è un po' di allergia il colore 316 prugna che quindi è un castano scuro violaceo ed è andata bene le avevo messo sulla testa sulla cute del balsamo mischiato dell'olio di ricino per creare una patina abbastanza spessa che quindi non andasse direttamente a contatto con la cute e la tintura non dimenticando però che comunque i capelli sono un veicolo per le sostanze anziché lasciarla i 25-30 minuti classici dopo un quarto d'ora abbiamo sciacquato lei per precauzione come le hanno suggerito in ospedale ha comunque preso una pasticca da un milligrammo se non sbaglio di cortisone ed è andata bene non è successo niente non ha avuto puriti non ha avuto gonfiori ed è andata liscia succede però che dopo qualche mese anche questa tinta comincia a dare gli stessi effetti finché quindi non abbiamo realizzato che probabilmente poteva essere che il periodo di enne avesse diciamo disintossicato in qualche modo il corpo ma ovviamente poi riutilizzando le tinte seppur tamponate dal silico dal come si dice dal cortisone non dal silicone il problema si sia ripresentato perché si è sovraccaricato qualcosa no? abbiamo cominciato a cercare delle soluzioni per rendere questo questo indigo più coprente più simile al suo colore o quantomeno un castano e siamo incappati nel canale di Rosalia o Rosalia penso a Rosalia comunque Beauty Tips che è una ragazza molto brava professionale che ha un canale dedicato completamente delle erbe tintorie ai capelli grazie a lei siamo arrivati a capire che per riuscire a coprire a coprire i capelli bianchi bisogna fare un doppio passaggio quindi prima con la lausonia e dopo con l'indigo con il katam che non è necessario fare particolari passaggi eccetera eccetera però ovviamente vi lascio il link al suo canale perché spiega 3000 volte meglio di me e ha veramente molta esperienza quindi ragazze tutta questa manfrina per dirvi che io non userò più tinte per capelli perché la paura è tanta è stata tanta e io pensavo che mia mamma ci lasciasse le penne lì per lì ero impassibile quando la portavano via perché è il mio modo di reagire cioè pongo una specie di barriera però lo sconforto dopo che l'hanno portata via sono rimasta da sola a casa perché era la sera tardi e sono andati già mio papà e mio fratello io sono rimasta a casa tipo in stato di shock e ho capito che una cosa che può sembrare innocua perché a poco prezzo perché alla portata di tutti e perché tutti la fanno in realtà è veramente molto molto pericolosa quindi questo video è per dirvi che oltre a quello che ho appena detto non giocate con le tinte per capelli non siate sempre sicure che se è andata bene una volta potrà farlo nuovamente ovviamente se vi trovate bene continuate però alle prime avvisaglie di problemi per favore smettete immediatamente di usare la tinta e sciacquate il prima possibile rivolgetevi immediatamente ad un medico perché poi le reazioni allergiche sono come le ciliegie una tira l'altra perché da quelle poi ne sono seguite anche altre e viva le erbe tintorie che magari non daranno quel colore perfetto che può sembrare diciamo naturale in qualche caso ma vi posso assicurare che le erbe tintorie possono fare il loro lavoro e anche molto bene quindi ritardate il più possibile questo processo di tintura e apprezzatevi per come siete perché dopo io amo i colori ok io se potessi mi farei i capelli completamente verde acqua e azzurri e blu però purtroppo non non è possibile e la mia voglia di cambiare esteriormente i capelli perché mi diverto e mi piace tanto non deve essere diciamo in realtà una maschera per cambiare me stessa sì sto introducendo un argomento che non c'entra niente però questo per dirvi accettatevi piaccetevi per come siete perché siete sicuramente bellissime anche se voi non vi sentite tali perché ci fanno sentire sempre brutte e inadeguate scusate se c'è questo piccolo taglio ma il cane abbagliave l'ho fermato tutto qua grazie per avermi seguito io come sempre vi aspetto anche su instagram se vorrete iscrivervi al canale molto volentieri e soprattutto se avete delle esperienze da condividere in merito alle tinte per capelli dei consigli degli avvertimenti qualsiasi cosa scriveteli qui sotto perché tutti quanti li potranno leggere ciao ciao grazie a tutti